Ciao amici di Foodspring, sono Jill, sono tornata, io adoro Foodspring e oggi mi sono messa anche una bellissima maglietta di Foodspring e sono qui per parlarvi di cibi che ci appagano la mente. La cosa più bella di Foodspring è proprio questo, ci permette di avere la soluzione di appagare quel languorino, quella voglia, quando alla fine di un lungo allenamento o alla fine della giornata e abbiamo avuto una giornata un po' no, chi non vuole andare al frigorifero e sbranare qualche cosa di dolce, tutti, perché fa parte di noi, è una cosa che ci appaga avere un dolce sulla lingua. Musica 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 Così psicologicamente Foodspring ci permette di appagare un gesto normale, un gesto di qualcosa che ci rilassa, ok? Come ciucciare, secondo me, attavicamente al seno materno, no? Allora, cioccolato è meraviglioso, si sa dalla proprietà del cioccolato, sia dal punto di vista del triptofano che ci aiuta a creare la serotonina, un percussore della serotonina che ci aiuta a sentire appagati, sereni, beati, serafici, ci aiuta anche a ridurre la fame, pensa. E questi brownies che ho messo anche la protein cream, per avere veramente un prodotto che alla fine tu sei 100% soddisfatto, perché è veramente gustoso, è veramente cioccolatoso, è veramente... ovviamente sul palato ti rimane qualche cosa che sembra che hai fatto chissà che cosa come dolce, poi in realtà è ricco di proteine, è povero di zuccoli bianchi, non c'è olio di palma, c'è olio di cocco, c'è olio di semi di altissime qualità, c'è burro di cacao, e tante 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 proteine che ci aiutano a sostenere i nostri muscoli da una parte, poi c'è anche tante fibre, ok? Nelle brownies ci sono soltanto 228 calorie per 100 grammi proprio del brownies stesso e questo vuol dire, ok? E meno del pane, ok? Così io posso andare a mangiare una cosa che mi aiuta, grazie alla fibra di rimanere sazio più a lungo, ma mi aiuta anche la microbiota, aiuta a nutrire la microbiota, perché il nostro microbioma ha dei probiotici che hanno bisogno di essere nutriti, hanno bisogno proprio di avere il loro mangime, il loro mangime è la fibra, di solito la fibra dobbiamo prendere con tante tante verdure, le verdure fanno benissimo, ma quando noi vogliamo un dolce languorino, qualcosa che finisce la giornata, finisce il nostro allenamento, anzi, quando finiamo l'allenamento dobbiamo mangiare durante la finestra anabolica, che cosa è meglio di questa? Un po' di zuccheri sani, ok? E tante proteine per dare sostegno, per reintegrare diciamo i nostri muscoli dopo l'allenamento e ti appaga la testa, cioè ti appaga il cervello, perché è più facile rimanere in linea quando la testa è serena, beata, serafica, tranquillo, ok? Se noi viviamo soltanto di stenti, soltanto di obblighi, soltanto di doveri, senza avere qualche bellissimo premio, guarda, diventa veramente impossibile cambiare stile di vita, perché nessuno può vivere sempre a stecchetto. Ecco perché mi piace Foodspring, perché abbiamo la possibilità con i Protein Brownies e con il Protein Cream che veramente ti ricorda quel calorico, pazzesco, spalmatura, spalmabile, crema spalmabile che non nomino, però la conosciamo tutti. Questa è una validissima alternativa, l'unica cosa che fa sempre Aruba. Così vi invito a fare subito il vostro ordine online, utilizzate il mio codice sconto che è GILYT per avere 15% di sconto e io spero che vi piace questo prodotto che è altamente proteica, diciamo povero di zuccheri semplici e molto gratificante a livello della testa, ok? Provate e vedrete che questa nuova ricetta della GILYT è super gustoso, super buono. E la cosa ancora più bella è che lo puoi mangiare dopo l'allenamento come premio. Yeeey!